Cari amici buona domenica, vorrei quasi dire buon carnevale ma lo lascio già alla vostra inventiva, alla vostra capacità, alla vostra gioia un po' mondana giustamente visto che mercoledì entreremo nel grande cammino della quaresima. Interrompiamo così nelle domeniche che verranno la lettura del discorso della montagna che abbiamo gustato da qualche domenica e che oggi ci mette davanti a una proposta che tutto sommato anticipa, prepara un po' la quaresima. Tra l'altro il brano di Vangelo che ascolterete mercoledì partecipando spero secondo le vostre possibilità alla messa e al rito delle ceneri è tratto proprio dal discorso della montagna. È sempre Gesù che ci indica nella preghiera, nell'elemosina, nel digiuno la strada per ritrovare le vie di Dio. Il Vangelo di quest'oggi, la pericope che leggiamo quest'oggi è la continuazione diretta di quello che abbiamo già letto domenica scorsa. È sempre Gesù che ci dice avete inteso che fu detto ma io vi dico. Ecco questo ma io vi dico che già è rimasto nelle nostre orecchie da domenica scorsa ci fa intuire come il Signore ha qualcosa di grande da suggerirci. Ascoltiamo la pagina evangelica e cercheremo poi di cogliere qualche aspetto che serve alla nostra vita. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgergli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Notiamo quest'oggi come Gesù ci presenta due quadri. Il primo, il primo che sembrerebbe essere giocato come il secondo un poco per altro, soltanto su una dimensione di rapporti personali, no? Dove il rischio è sempre quello di cadere in una legge un po' del taglione. Tu mi hai fatto questo, io allora ho il diritto di farti questo. Tu hai sbagliato qui, allora io sbaglio di là. Tu ti comporti in questo modo, allora io mi comporto in questo modo. Tu scegli di fare così, io scelgo di fare cos'ha. Gesù non ci chiede di essere dei bontemponi quando ci dice di non opporci al malvagio. E non intende neanche semplicemente suggerirci di offrire il nostro viso a qualunque schiaffo, a qualunque scappellotto ci sia dato. Gesù ci dice, cerca di costruire te stesso lontano da ogni presunzione, lontano da ogni calcolo personale, lontano da un giustizialismo che apparentemente ti mette al sicuro. Quello che però ha fatto andare avanti la storia degli uomini è quello che permette anche oggi alla storia di andare avanti. È la semplicità di molte persone che, con la loro umiltà, direi col loro essere humus, scompaiono sulla faccia di questa terra. Sono capaci di promuovere dei rapporti, delle relazioni che sono molto differenti da quelli di un legalismo, da quelli di un volersi imporre, da quelli dell'avere sempre ragione. Gesù ci chiede una semplicità d'animo dove concretizza ancora una volta la beatitudine dell'amitezza e la beatitudine dei puri di cuore. Poi abbiamo il secondo quadro. Il secondo quadro che è quanto mai forte, però, è quello che risolve il grande comandamento dell'amore, soprattutto nella parte che riguarda il rapporto con gli altri, che peraltro non è differente da quella del rapporto con Dio. Pensate un po', Gesù ci dice che dobbiamo amare i nostri nemici, pregare per quelli che ci perseguitano. E uno dice, ma come faccio io a fare questa cosa? E Gesù ci dice, ma guardate al Padre che è nei cieli. Il Padre fa sorgere il suo sole sui cattivi, sui buoni, fa piovere sui giusti, sugli ingiusti. Cioè, l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti, anche quando noi la combiniamo grossa, è quello di usare una grande misericordia. E allora, a nostra volta, siamo chiamati a usare misericordia, a portare misericordia. E poi ci sono quelle domande che non sono un semplice passaggio esplicativo, ma vogliono ulteriormente aiutarci ad essere più consapevoli di come amare il nostro prossimo. Se ami quelli che ti amano, cosa vuoi tirare a casa? Fanno così anche i pubblicani. I pubblicani erano i pubblici peccatori all'epoca di Gesù. I ladri disciplinati addirittura legalmente. Perché i ladri disciplinati dalla legislazione sono sempre esistiti sulla faccia di questa terra. E allora è mica solo per gli scandali dei nostri giorni, sia chiaro. E poi dice Gesù, ma se tu dai il saluto soltanto a quelli della tua cerchia, ai tuoi fratelli, cosa fai di straordinario? Anche il mondo pagano, lontano da Dio, vive così. Un missionario mi diceva che gli appartenenti a una determinata professione religiosa non facevano nulla per chi era di altre professioni religiose. E la grande testimonianza dei cristiani in questo mondo invece è stata quella di aiutare tutti indiscriminatamente. E così Gesù chiude quasi a lanciare un ponte per dirci, guarda che il cammino continua, anzi si intensifica con la quaresima che andremo a incominciare. credo che non ci sia indubbiamente espressione evangelica più forte, più dura. Come facciamo a diventare perfetti come il Padre? proprio perché il Padre è colui che manda il Figlio per amore e dona lo Spirito per renderci figli amati Suoi. Ecco allora chiediamo grazia per essere perfetti. Lui può aiutarci a diventarlo. e chiediamo grazia che il cammino della quaresima ci veda attenti e capaci a una maggiore perfezione, non legale, non semplicemente morale, ma del cuore. Quella perfezione che nasce dall'essere in Dio, dall'essere sale e luce del mondo, dall'essere beati perché si appartiene a Lui. Chiediamo al Signore allora di prendere sul serio l'unica cosa necessaria, la nostra conversione a Lui. Il resto serve a poco. Buona domenica, buon cammino di quaresima. 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 Grazie a tutti.